Oggi parliamo del sale, il quale non viene usato solo come condimento, ma anche come conservante. Io preferisco mangiare sciocco perché so che salato fa male. Allora noi avendo origine del sud siamo abituate a molto condimento, quindi mangiamo molto salato. Anche a me mi piace molto il salato, infatti lo mangio quasi sempre. Sì, io mangio molto alimenti salati, devo dire abbastanza, anche i salatini mi piacciono molto. Certo, so che fa male, infatti se devo salare l'acqua uso essenzialmente il sale iodato, però è una roba sciocca, però non riesco a mangiarla. A me il salato mi piace da impazzire, però sono un po' di mesi che sto facendo una dieta e me l'hanno praticamente proibito. E come ben sappiamo, olio, ferro e sale, mercanzia reale.